La corsa contro il tempo per salvare le cinque persone a bordo del sottomarino Titan della Ocean Gate è disperso durante una spedizione turistica al relitto del Titanic, se conclusa in modo tragico. La guardia costera di Boston ha confermato che sommergibile ha subito una catastrofica implosione durante il viaggio verso il relitto, provocando istantaneamente la morte dei passeggeri e la disintegrazione dei loro corpi. Durante le complesse operazioni di ricerca, uno dei veicoli operati a distanza ha trovato frammenti del sottomarino tra i rottami rinvenuti sul fondale, compresi il telaio di atterraggio e la parte posteriore del mezzo. Queste scoperte non lasciano dubbio sulla possibilità che il Titan sia imploso poco dopo la perdita dei contatti con la nave d'appoggio Polar Prince. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.